Sarà la stanchezza per i troppi impegni ravvicinati, sarà il primo vero caldo della stagione, sarà la paura di perdere, ma il recupero fra Pistui e Sant'Arcangelo non rimarrà certo nella memoria degli sportivi arancioni. Zero tiri, zero occasioni da gol in 98 minuti lasciano la mano in bocca perché l'occasione di allontanarsi di tanto dalla zona play-out era ghiotta. Bisognava quantomeno provarci. Pazienza, ora i punti utili vanno trovati nelle ultime quattro partite a cominciare dal difficile derby di domenica prossima all'Arena Garibaldi con il Pisa. Poteva essere la partita per mettere una serie ipoteca sulla salvezza diretta, così ancora non è perché il pareggio smuove di poco, la classifica cambia poco. È un punto preso o due persi? Una Pistoiese che non ha mai accelerato, il primo tempo un po' meglio, però nel secondo forse un po' di stanchezza. Cosa è successo? No, è sicuramente un punto guadagnato che due punti persi perché veniamo da due settimane terrificanti che giochiamo ogni tre giorni e oggi anche il caldo ci ha messo la sua, quindi non bisognava perdere. Se si vinceva ovviamente sarebbe stato un discorso quasi chiuso, però penso sia un bel punto perché adesso siamo tutte lì e abbiamo quattro partite alla nostra portata che ci possiamo giocare con tutti. Sei stato sostituito e ancora non hai i 90 minuti della partita? No, non ho i 90 minuti anche perché come ho detto prima si gioca ogni tre giorni, rientro da un infortunio di tre mesi e mezzo e giocare ogni tre giorni è massacrante. Quindi era giusta la staffetta e peccato al primo tempo qualcosina avevamo creato, invece il secondo un po' meno, però la stanchezza si è fatta sentire. Qual è il vero rammarico di questa partita? Il vero rammarico era che se magari la sbloccavamo al primo tempo sarebbe stata una partita diversa, eravamo stanchi noi, stanchi loro e al secondo tempo è stata una partita brutta però come ho detto prima un buon punto.